È arrivato il momento di cambiare narrativa. Che cosa vuol dire? Vediamolo insieme. Ciao, sono Aurora e racconto per immagini e torno a parlare di un argomento a me caro, ovvero lo storytelling della contemporaneità applicata alla vita sociale. Che palle Aurora, dite sempre questi discorsi, ma perché non parliamo di tecniche, di scritture, di sceneggiature? Perché voi lo sapete che il mio pensiero per quel che riguarda la vita di coloro che scrivono è che non possiamo mai del tutto distaccarci dal fatto che siamo esseri umani che vivono in una società e che abbiamo di conseguenza dei diritti ma anche dei doveri nei confronti della società che ci ospita. E quindi io ritengo che soprattutto in questi tempi estremamente bui e deprimenti e ogni volta che esce una notizia su cosa sta accadendo io voglio semplicemente piangere, ecco che cerco con quel poco che posso di condividere con voi quello che è il mio pensiero ma non solo il mio perché ovviamente io posso essere megalomane ma tutto quello che io vi propongo esce da mie riflessioni ma anche da riflessioni di studiosi, scienziati e sociologi il cui pensiero io condivido. Perché se posso un minimino cercare di essere un influencer e di influenzare il vostro pensiero altro non mi renderebbe più felice ma siccome col cavolo che io sono il grande fratello voi siete i miei adorati nipotini e anzi Aurora adora insegnarvi le cose ma ci tengo anche tanto da avere una vostra opinione. Quindi se vi piace quello che dico ma anche no iscrivetevi per contenuti in realtà principalmente dedicati a sceneggiatura e storytelling e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di queste riflessioni che condivido con voi e potete seguirmi anche su Instagram per informazioni su concorsi, pitch e video divertenti e non solo. Oggi voglio partire da alcune riflessioni che sto facendo ora che sto seguendo un corso curato dal sito internet di giornalismo online Comune Info dedicato alla comunicazione sociale. Voi sapete che questo è un tema che mi tocca molto da vicino ovvero la possibilità proprio di raccontare i territori e i territori possono essere veramente qualsiasi cosa, possono essere comunità molto piccole ma anche comunità molto grandi. Voi sapete che la questione dell'andazzo di questo pianeta a livello ambientale ma non solo mi sta molto a cuore ma non è che mi sta a cuore perché io sono chissà chi o perché io sono una fricchettona ambientalista, mi sta molto a cuore perché sento sulla mia pelle le conseguenze di queste direzioni assurde che penso stiano, in cui penso stia andando il mondo e mi piace molto la possibilità di provare a vedere con voi se esiste la possibilità di fare qualcosa ma ecco che appunto e secondo me già alcuni di voi vi ho persi per la strada se siete arrivati fino qui dite io ce l'ho fatta ad arrivare fino qui ditelo nei commenti quindi quando si tratta di parlare di cose spiacevoli ecco che la gente si chiude al riccio perché ecco c'è Aurora che rompe i coglioni e dice che devo smettere di mangiare la carne ecco c'è Aurora che rompe le palle e dice che io devo smettere di andare in macchina perché mi vuoi consigliare il tuo stile di vita, perché vuoi condizionarmi io non faccio nulla di male, il male sono i governi e non si può cambiare niente questa è un po' la reazione media che ho appunto quando cerco di parlare di questioni che mi stanno a cuore e onestamente vi capisco perché capisco sia la naturale resistenza a cambiare un proprio stile di vita soprattutto quando dall'altra parte non sta cambiando niente quando dall'altra parte appunto si continua a proporre dei modelli che purtroppo non stanno funzionando ma che ci vengono proposti come l'unica via possibile e questo modello in primo luogo è il modello capitalistico capitalistico di stampo patriarcale occidentale non andate via, restate qui, restate qui, vi prego, vi spiego dove voglio andare a parare non c'è nulla di più lontano da me rispetto a magari capito la persona complottista che rifiuta però ragioniamo un attimino di cosa stiamo parlando adesso stiamo parlando di una situazione dove il mondo sta andando in una direzione ormai inarrestabile il clima è già cambiato, siamo troppi chiaramente lo vediamo con i nostri occhi non c'è abbastanza risorse per tutti non c'è acqua pulita per tutti, non c'è gas per tutti cioè appena la Russia dice vi chiudo il gas ce lo chiude e noi moriamo di freddo non ci sono soldi per tutti stiamo lavorando come ciuchi ma gli stipendi non salgono mentre le spese continuano a salire non c'è la possibilità di pensare che questo modello che è un modello capitalistico appunto di crescita costante che c'è stata proposta sin da quando siamo nati perché la maggior parte di noi ormai è nata dopo la seconda guerra mondiale è nata in un periodo dove c'era l'idea di una crescita economica legata a un'idea di crescita tecnologica di crescita appunto di sfruttamento delle risorse ma in 80 anni si è dimostrato che non funziona perché la disparità sociale rimane oppure cresce le risorse si consumano il clima impazzisce e che con cosa rimaniamo noi? rimaniamo con dei tentativi goffi di arginare il problema con quella che si chiama transizione ecologica ovvero riproporre questi stessi modelli quindi produrre 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 tutti con la macchina tutti con andare al lavoro 9-18 sempre sempre così ti sposi fai figli fai casa tutto questo modello però ecologico e quindi la bottiglia monouso ma attenzione di plastica riciclata quindi tutti con la macchina però attenzione alla macchina elettrica perché? Perché appunto non è presente una narrazione che propone questo cambiamento necessario tutti dicono che è necessario ormai come qualcosa di favorevole come qualcosa di piacevole e lì si arriva alla questione della narrazione ora ad esempio si sta parlando tanto in due momenti diversi si parla da una parte dei pazzi ambientalisti che vandalizzano i Van Gogh che versano il latte per terra e ah vedi questi pazzi ambientalisti che danneggiano le risorse dell'uomo invece che oppure quei pazzi ambientalisti che si fanno raccattare per terra si parla appunto di pazzi ambientalisti di queste si raccontano queste cose estremamente esagerate piuttosto che magari andare a raccontare invece tutto quello che c'è sotto tutto quello che c'è dietro e soprattutto appunto c'è una narrazione no? se ci pensate delle persone che scelgono perché attenzione qualcuno può scegliere di non comprare certe cose di non usare la fast fashion di non mangiare cibo spazzatura di non sottostare a un sistema lavorativo sfruttante che non riconosce i loro diritti qualcuno ha la possibilità di scegliere perché abita nel nord del mondo perché ha un cuscinetto economico alle spalle qualcun altro non può scegliere però attenzione coloro che scelgono quindi coloro che appunto non si spostano con la macchina che non si comprano i vestiti nuovi in continuazione ma preferiscono comprare quelli usati quelli che non mangiano carne o altri derivati animali perché non vogliono alimentare un'industria che è un'industria dello sfruttamento roba del genere così questi non sono rappresentati nella narrazione collettiva come delle persone che stanno prendendo delle scelte di cui sono consapevoli ma non solo ma che gli rendono anche una vita più serena più felice meno stressante meno dentro il criceto dentro la ruota da criceto ma vengono presentati come degli estremisti dei fricchettoni e vengono presi in giro perché? perché appunto il modello dentro cui ci muoviamo dentro cui siamo vittime quindi un modello che vuole che noi lavoriamo costantemente perché dobbiamo avere soldi perché dobbiamo avere la macchina dobbiamo avere la casa dobbiamo avere figli dobbiamo consumare 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 questo modello si alimenta di questo si alimenta del fatto che la nostra ambizione è avere i soldi sempre di più sempre di più per avere le cose che ci viene detto che dobbiamo volere ora io ho 33 anni questo è il mio gatto che piange e questo gatto che piange è l'unico figlio che io potrò mai avere perché io non ho non guadagnerò mai abbastanza per poterlo campare questo ragazzino eventuale adesso lo vado a prendere negli ultimi anni ho dovuto seriamente rivalutare quelle che possono essere le mie reali aspettative e mi sono resa conto che tante delle cose che io fino a poco tempo fa ritenevo aspirazionali quindi appunto una casa grande un lavoro con tanti soldi un viaggiare costantemente magari dei figli non possono essere più parte della mia narrativa per due diversi motivi il primo è che appunto economicamente e logisticamente non è una cosa che io ritengo possibile per me ma anche perché conoscendomi e questo è molto importante conoscendomi io ho osservato che nella realtà e parlo per me non sono cose che desidero l'unica cosa che desidererei è in effetti avere tanti soldi perché vorrei avere tanti soldi alzi la mano che non vorrebbe avere tanti soldi perché vorrei avere la libertà di scegliere io su cosa lavorare cosa che mi pesa non poter fare io devo lavorare perché ho bisogno dei soldi per vivere tutta la maggior parte di noi pensano però come posso dire ho iniziato ad osservare che intorno a me c'erano tante narrazioni che invece cercavano di spingermi a desiderare altro a desiderare sempre i vestiti nuovi a desiderare la macchina per spostarmi ovunque voglio con la macchina di proprietà a desiderare di volare ovunque a 20 euro a desiderare di avere sempre trucchi e sempre una vita molto glamour questo io magari a un uomo gli viene chiesto questa narrazione gli propone altri tipi di desideri tra questi c'è anche che appunto ti spinge a desiderare ad avere un figlio ad esempio ma come un figlio non lo fai ti dicono se sei magari in una relazione stabile hai più di 30 anni perché è il modo in cui tutto intorno a noi ci spinge a desiderare ma no non voglio dire che dobbiamo smettere di desiderare questa cosa voglio dire che queste sono narrazioni che mostrano come indesiderabile tutto il resto e allora appunto se tu sei una persona che si mostra pubblicamente quindi magari appunto io vado a lavoro in bicicletta ho un coinquilino perché perché nella situazione in cui sono mi conviene di più avere un coinquilino piuttosto che non averlo non mi trucco perlomeno non quanto facevo prima non ho sempre vestiti nuovi ma uso vestiti usati e non ho le ambizioni di una vita glamour che potevo avere prima è possibile cioè a me capita nel mio privato ma se io lo facessi molto più apertamente come fanno certi influencer che le critiche mi potrebbero piovere a goccia così come le critiche stanno piovendo ad esempio intorno a un certo tipo di avvenimenti che sta accadendo soprattutto negli Stati Uniti ma anche in altre parti del mondo dopo quella che era stata chiamata The Great Resignation quindi il grande licenziamento che ha visto tantissimi impiegati dopo il Covid licenziarsi perché lo stare a casa questo soprattutto negli Stati Uniti dove c'è una concezione del lavoro molto tossica gli ha fatto capire che era un equilibrio vita lavoro che non era un equilibrio che lavoravano tantissime ore e che gli stava risucchiando la vita fondamentalmente queste persone hanno iniziato a licenziarsi adesso sta accadendo un'altra cosa che viene chiamata quiet quitting ovvero smettere in silenzio che in realtà altro non è e vi lascio qualche video che ne parla di impiegati che non è che smettono non è che non lavorano ma semplicemente smettono di fare di più di quello che dovrebbero fare si limitano a fare quello che dovrebbero fare l'impiegato ministeriale diventano praticamente che voi potreste che c'è di strano è normale fare quello per cui devi fare sei pagato ma non solo nì perché ad esempio io conosco tante persone che fanno costantemente gli straordinari e non vengono pagati che salgono di responsabilità e di posizioni ma questo non corrisponde un aumento di stipendio o un riconoscimento ufficiale all'interno della gerarchia aziendale perché questo è il succo cioè continuare a presentare questa situazione come una situazione dove i giovani non hanno voglia di lavorare i giovani non hanno voglia di fare figli i giovani non hanno voglia di sacrificarsi io vi invito a provare a vedere le cose in un'altra prospettiva e provare magari a dire i giovani stanno quei giovani che perlomeno lo fanno stanno magari cercando di presentare dei problemi che sono dei problemi sistemici sono dei problemi sistemici a livello di contratti a livello di stipendi a livello di stile di vita i giovani che stanno iniziando a ribellarsi a queste narrative che appunto sono la narrativa dell'ufficio della casa dei figli della macchina della città di quello che è stato fino a poco fa sono dei giovani che si sono resi conto che questo stile di vita in realtà non è sostenibile non è sostenibile per il pianeta non è sostenibile per loro stessi a lungo termine perché ci si ammala ci si ammala a lavorare sempre a stare sempre di fronte al computer a fare questo stile di vita dove devi stare costantemente dentro la macchina nel traffico per andare da una parte all'altra e comprare il cibo del supermercato cioè la gente ci si ammala e non è sostenibile a livello della società perché è un sistema che si limita a garantire la ricchezza delle persone più ricche e a tenere povere le persone più povere quindi forse piuttosto che dire ah i giovani rompono le scatole non si vogliono adeguare e non vogliono lavorare io proverei a metterla magari forse quelli che non sono più giovani non riescono a pensare che ci possa essere un'altra narrativa e un'altra realtà possibile e quindi ritorno a bomba per quello che ad esempio riguarda noi noi che scriviamo io penso che sia fondamentale anche approcciarci a siccome appunto come abbiamo detto all'inizio le persone si ribellano di fronte al cambiamento si ribellano all'idea di qualcosa di spiacevole e purtroppo il cambiamento climatico sta avvenendo anche giustamente presentato in delle chiavi molto angoscianti ma se invece noi provassimo a presentare queste alternative come aspirazioni aspirazionali quindi appunto personaggi che vanno in bicicletta personaggi che hanno uno stile di vita che non è in linea con quelli che sono stati quelli che finora noi abbiamo visto e che raccontiamo la nostra storia noi che magari la viviamo non come un sacrificio ma come qualcosa che semplicemente è diverso e dentro il quale noi troviamo delle alternative perché nei fatti noi non siamo ragazzi non siamo dei robot non siamo nemmeno dei campioni che devono fare tutti uguali che dobbiamo avere tutti la nostra vita ognuno ha una vita diversa e degli obiettivi e degli interessi diversi e dobbiamo allenarci a capire cosa ci piace e cosa non ci piace ma io nel fare ciò vi incoraggio anche a guardare oltre quello che è il vostro conosciuto a sperimentare ad esempio che cosa potrebbe voler dire provare magari sto un mese e non mangio carne vedete ma dopo un po' probabilmente non ve ne accorgereste nemmeno oppure fammi andare una volta a vedere com'è un negozio di vestiti usati e magari andate lì e scoprire che ci sono dei vestiti che vi piacciono oppure ma cosa accadrebbe se invece che con la macchina andassi a lavoro con la bicicletta lo posso fare lo posso non fare magari al posto della macchina da solo posso fare un car sharing a provare ad avere una mentalità aperta e approcciarci a questa nuova narrazione non come appunto la narrazione di il mondo sta finendo e i giovani stanno facendo i capricci ma come un i giovani vi stanno proponendo un nuovo stile di vita nuovi stili di vita e dentro queste proposte potreste trovare una cosa che in realtà vi rende più felici e per quanto possa fare fatica e uno si possa sentire scoraggiato perché dice ma che palle ma solo io ma poi la gente mi prende in giro ma che fatica se siamo in tanti non è più una fatica e io lo vedo intorno a me io vedo che man mano che io prendo queste decisioni siamo sempre di più a prenderle volenti o nolenti appunto dei miei coetanei ad esempio nessuno ha figli non è normale non sarebbe stato normale che a 33 anni te c'hai tutti amici e nessuno di questi amici c'ha figli ma nella realtà è diventato così perché nella realtà è una scelta che noi economicamente abbiamo dovuto prendere nel mio nel mio giro di amici tantissime persone appunto usano Vinted usano i siti usati perché all'inizio magari così per moda ma poi hanno scoperto che gli piaceva eccetera 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 quindi il mio è un invito a provare veramente a provare a scoprire nuove narrative e ad applicarle anche nel modo in cui leggiamo la realtà perché siamo circondati da dei poteri forti oddio mi sento una complottista dire questo però siamo circondati da delle realtà che vivono presentandoci la narrativa dell'aspirazione del consumo come unica narrativa possibile mentre noi abbiamo la possibilità di scoprire che ce ne sono altri e questo è quello che ci porterebbe veramente e direttamente a una conversione ecologica non transizione che è quello di cui abbiamo bisogno scusate per il lunghissimo pippone ma ci tenevo veramente tanto a parlarvene fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video ciao